Che non consideriamo. È possibile la via dolce, cioè evolvere senza soffrire? Commento. No, perché le noie, le resistenze, le insoddisfazioni, le antipatie, le preoccupazioni, le allergie, le aspettative, gli scontenti, le disaffezioni, che noi non consideriamo propriamente dolori, fanno parte integrante della fatica del vivere nella bassa condizione umana.